No, 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 grazie, no, 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 grazie, no, 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 grazie. Sara e Azzurro. In anteprima mondiale, me ne frego, di Achille Lauro. Musica e il resto scompare, musica e il resto scompare, musica e il resto scompare. Uno dei palchi più importanti del mondo, il Tempio della Musica. Non sto parlando della Scala, ma sto parlando del grande Festival di Sanremo all'Ariston, alle porte della Hermes. Cosa penseranno i milanesi? Copriamolo insieme. No, sono da Vietnam. Da Vietnam. Lei parteciperà al Festival di Sanremo quest'anno? No. De Madrid, conoscesse il Festival di Sanremo? No. Chi è lui? Gabani. Morgan. Lui è Enrico Ruggeri, giusto? No. Masini. Marco Masini. Marco Masini, questo è... Questa si assomigliano. Sì. Beh, abbiamo Junior Calli qua, molto bene. Bravissimo. Pelu. Con il maschio? No. Niente, eh? No, no, no. Ehi? No, no. Salve, nonno, lo facciamo cantare in anteprima una canzone di Gabani. In anteprima mondiale, me ne frego, di Achille Lauro. Ivan, nei panni di Junior Kelly, oggi ci canterà in anteprima mondiale, no grazie. Non ho i superpoteri, ma tutti, riconosco, chi fa la voce grossa, sempre solo di nascosto. Tra cani e porci, figli di un Dio minore, pronti a colpirci. Tu non lo dici ed io non lo vedo, l'amore è cieco, siamo noi di sbieco. E lontano lo sguardo di un faro tra noi a fuggire. No, ho sbagliato. Ua! Elettra, Elettra Lamborghini, mi piace la musica fino al mattino, faccio casino, senso ma non bevo vino. Abbiamo incontrato uno degli ospiti più attesi di questo festival, Miss Keta. Ciao a tutti. Sei pronta? Eh, prontissima. Il cielo rosso, l'orizzonte, il odore se è il bene, mi c'è dove... Viva, tu sei tu, tu sei più, già lo so. Faccio così, cado, 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 cado per la strada, parla piano, questa notte dormo sul divano. Non mi ricordo mai dove li metto, iniettati con la lista della spesa nell'ultimo casetto. Cado, cado, cado per la strada, parli piano piano, questa notte dormo sul divano, altro che pensare a te. Tanto qui resta la musica e il resto scompare, musica e il resto scompare. Balli il tango mentre tutto il mondo muove il fianco, sopra un tempo che fa tiki boom boom boom. Qui dovresti tuercare se non sbaglio. Eh, non lo so fare, magari. Elettra, tu. Elettra che tuerca. Ah, è giusto. Abbiamo un altro ospite internazionale, incontrato anche oggi per caso, qui in Corso Vittorio Emanuele, Ed Sheeran. Purtroppo è impegnato in una telefonata con Amadeus, perché credo che stiano decidendo gli ultimi dettagli della sua partecipazione. Torna la gente, come un punto tra la gente. Perdonami adesso pure lo stesso, io non so, io son fatta così, ma quanto canto sto da Dio. Dal vostro palco vivente sulla riviera milanese è tutto, linea al festival. Grazie.